Scuola Oltre presenta i nuovi corsi di formazione webinar Buonasera a tutti, buon pomeriggio e ben ritrovati con la rubrica dedicata alle buone notizie della scuola. Siamo arrivati ad aprile, siamo arrivati alla fine purtroppo di questo percorso che ci ha accompagnato durante quest'anno insieme con Antonio Di Pietro e Tiziana Ciappelli e tanti tanti ospiti. Per chi non ci conoscesse ma anche per chi ci ha seguito ripercorriamo un po' questo percorso. Abbiamo iniziato il 3 ottobre con il titolo calzante, casano le foglie e volano le idee. Abbiamo continuato il 6 dicembre con l'appuntamento con Inclusi. Ci siamo rivisti al primo febbraio con Pensare con i piedi, Camminare con le emozioni. E oggi ecco che concludiamo con un kaleidoscopio di idee. Li trovate tutti registrati per chi li volete andare a risentire, riascoltare, ripercorrere un po' questo percorso insieme. Diamo quindi il via a questo incontro e lascio la parola a Tiziana Ciappelli. Buon ascolto a tutti. Grazie Francesca, grazie a tutti e a tutti che ci seguite. Siamo sempre contentissimi di incontrarvi. Come vi diceva Francesca, anche quest'anno ogni due mesi ci siamo visti con questi titoli che vi ha letto. Qual era la nostra idea, giusto per condividerla un'altra volta? Di partire proprio da tutto quello che viene realizzato, dall'incredibile ricchezza che c'è nelle nostre scuole. E quando dico le nostre scuole intendo le scuole italiane, ma non solo, perché come avete visto abbiamo a volte interventi anche da altre parti del mondo. Una ricchezza che nasce proprio sia dall'esigenza, dallo stimolo, dalla necessità, ma proprio anche dalla voglia di sperimentare, di mettersi in gioco. Ma soprattutto di fare della scuola un luogo di benessere, un luogo di gioia, di sperimentazione, di allegria. Un luogo in cui appunto tutti si possano sentire in un clima di inclusione, in un clima che stimoli, che vada a fare emerge, a scovare i talenti di tutte e di tutti. E che comunque vada a produrre energie positive fondamentalmente. Abbiamo visto che proprio in questi incontri uno dei temi fondamentali è sì includere, ma anche uscire dalle aule scolastiche. O viceversa fare entrare il mondo esterno dentro le aule scolastiche. Quindi con questo continuo rapporto, questa osmosi tra dentro e fuori la scuola, intesa proprio come ambienti fisici, la natura, la città, l'esplorazione di tutto quello che comporta dell'ambiente esterno, ma anche appunto di professionalità, di rapporti con i genitori, con la comunità, con tutto quello che circonda poi e fa parte della vita degli alunni, degli studenti e delle studentesse che stanno nelle aule scolastiche e anche dei formatori, degli insegnanti, degli educatori che fanno a pieno titolo parte proprio della comunità della scuola. Quindi la nostra idea era proprio di anche includere in questi percorsi la molteplicità delle idee, dei punti di vista, anche delle intuizioni, del saper fare, del saper essere, delle conoscenze, delle competenze degli insegnanti, degli adulti e dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Diciamo che un punto di attenzione fortissimo che abbiamo cercato di avere è sempre stato quello di sì andare a rilevare qual è la componente cognitiva di quello che facciamo a scuola, ma anche e soprattutto lavorare tantissimo, moltissimo nella crescita personale, individuale e collettiva, a partire dalle emozioni, dai sentimenti, dagli affetti, dai gusti anche personali, dalle propensioni. Quindi in qualche maniera mettendo dentro il mondo scuola tutto quello che poi in verità arricchisce profondamente la vita di ciascuno di noi, che sia noi intesi sia come adulti che come bambini, come ragazzi, ragazze e quindi individui in formazione. Quindi diciamo che le dimensioni cognitive, emotive, espressive sono sempre state unite nelle nostre proposte. Forse è in questo senso che siamo andati poi a scovare tutte queste esperienze, chiamiamole dal basso, ma in verità è dall'auto della scuola, cercando di far parlare proprio le persone che le hanno vissute, a cui magari è venuta l'idea o che in qualche maniera hanno pensato che fosse fattibile un percorso e che hanno avuto anche il coraggio di realizzarlo, di lanciarsi, di proporlo a genitori, a bambini e bambine, presidi e così via. Sono state veramente tante le persone che hanno contribuito a questi incontri e l'hanno fatto veramente nello spirito di diffondere tra noi che lavoriamo nella scuola, con la scuola, per la scuola, uno spirito positivo, uno spirito proprio di comunità che continuamente è in un percorso di autoapprendimento. Quindi l'idea è proprio che da questi incontri usciamo tutti con qualche nuovo spunto per entrare in classe domani o il prossimo anno o anche solo una piccola attività da realizzare e così via. Allora, oggi come al solito avremo tre persone che ci parleranno di tre esperienze diverse, a nostro avviso molto belle, molto interessanti e anche a loro, ma lo chiederemo anche a voi, quindi siete invitati a contribuire nella chat, chiederemo un po' di, tra virgolette, compiti per le vacanze. In questo senso, sapete bene che noi abbiamo anche sempre un approccio molto ironico, ludico, a tutte le questioni che in verità sono serissime, ma non per questo ci devono rendere appunto tristi o appesantiti. E i compiti per le vacanze sono questi. Se avete suggerimenti di letture, qualcosa da vedere, da sentire, fare, sperimentare, che magari durante il periodo estivo possiamo provare appunto a far nostro, a far proprio e così via. Quindi questa domanda l'abbiamo fatta anche alle persone che intervengono oggi, che ci lasceranno anche loro un piccolo contributo, che poi vi condivideremo insieme anche a fine di questo incontro via mail. Quindi a questo punto, io, fatta questa premessa, lascerei la parola ad Antonio che vi introduce il tema di oggi, che in verità non è un tema, perché è il kaleidoscopio delle idee. Quindi già da questo capite che siamo in un universo molto molto colorato, fatto di tanti pezzetti che però si ricompongono in un'immagine, ma appunto lo sapete come funziona il kaleidoscopio. Basta girare di un minimo grado questo strumento che di nuovo tutta l'immagine si scompone, ricompone in maniera molto fantasiosa. Quindi l'idea era proprio il kaleidoscopio delle idee, scusate il pasticcio di parole, ma era proprio di dare anche l'impressione, l'input di quanto le idee poi sono generative di nuovi immaginari, di nuovi spunti, di nuovi colori. Basta a volte anche introdurre una piccola variazione. Antonio, a te la parola. Beh, dicevi che siamo ludici e quindi siamo seri, e quindi come può mancare nel mio studio un... eccolo qui, un kaleidoscopio, ce l'ho, ce l'ho qui, che può mancare nella mia condizione anche di giocattoli, ce l'ho diversi. E in effetti fa l'effetto che tu dici. Ed è curiosa la storia, non so se la sapete, forse la sapete, ma può essere interessante di percorrere a brevi tratti. Intanto siamo all'inizio dell'Ottocento, per il periodo in cui l'ottica, gli studi scientifici sull'ottica erano molto in vogue. E allora in Scozia che cosa è successo? Quando stavano anche lì studiando gli studi dell'ottica, è capitato che accidentalmente cascò una goccia di colla tra alcuni specchi. Non so se sapete come è fatto il kaleidoscopio, ma fondamentalmente sono tre specchi, grossomodo, poi dipende dalle varie tipologie, qui dentro al tubo. E cascò lì, l'indomani viderò che quella goccia all'interno di questi specchi, questi vetri inclinati, cambiava forma. In che modo? Guardandoci dentro a questi vetri. Ed ecco che siamo a un'ennesima scoperta estremamente interessante, non solo nel mondo del giocattolo, che nasce per sbaglio. Per sbaglio è cascata la goccia, ma poi c'è stata la capacità e l'intuizione, anche la ludicità dello scienziato scozi, che notò che era qualcosa di meraviglioso e sorprendente. Infatti, la parola che è inventata, che era kaleidoscopio, vengono due parole greche a che fare con bellezza e con le figure. Quindi ecco che anche la bellezza è in qualche modo accompagnato i nostri incontri. e quindi oggi cercheremo di continuare su questa scia di bellezza e cercare di vedere le cose da più punti di vista, anche se quel minimo movimento poi ci può far cogliere delle sfumature, come dicevi tu Tiziana, e anche un pochino così con leggerezza e allo stesso tempo con profondità. E tra l'altro, vi dico l'ultima curiosità, questo oggetto nell'Ottocento fu uno dei giocattoli più ambiti del periodo. Ma per iniziare non basta un kaleidoscopio, non basta un binocolo, non basta un canocchiale, non basta neanche un canocchiale astronomico. È necessaria una connessione che funzioni perché ci stiamo per connegare oltre Oceano dall'altra parte. Siamo praticamente negli Stati Uniti d'America. In particolar modo, capito bene, in California, non tanto perché non so dove lavora Nora Bouchereau, ma perché lei in questo momento è anche in viaggio. Magari dopo ci potrà dire qualche piccola cosa. Nora Bouchereau è stata insegnante in California, nasce e cresce a Barcellona e dintorni, ha studiato in Italia e si è laureata a Firenze. Quindi è un'insegnante televista che ha girato un po' il mondo e che ci può aiutare a vedere anche un pezzetto di mondo. Infatti noi della California, tu lavori a San Francisco, abbiamo tante immagini da cartolina, gattacieli, mare, ponti, anche dei bellissimi parchi, ma ti chiediamo di darci qualche cartolina, qualche scorcio per quanto sia possibile sul mondo della scuola. Però dici un attimo dove sei in questo momento e come si fa in questi casi anche che ore sono dalle tue parti. Ciao, ciao a tutti. Sono super emozionata. Adesso sono le nove del mattino da me e sono in viaggio in questo road trip per campeggi. In questo momento sono in una piccola cittadina di mare e sono dovuta scappare a trovare un bar con wifi perché non c'è servizio di nessuna parte. Quindi sono contenta che ci siamo riusciti. Sì, io lavoro a San Francisco, è una città, sì, da cartolina, con anche tante difficoltà, non solo quelle della cartolina. È un luogo comunque, la California come stato, che ha una visione molto aperta, diciamo, a livello sociale, comparato con altri stati degli Stati Uniti. e investe molto anche nel sociale, nella comunità, nel ricollegamento. E a livello scolastico, la divisione scolastica è molto simile all'Italia. Quindi abbiamo un nido daycare, child care, che va fino ai due anni. Poi c'è la scuola dell'infanzia, che sarebbe il preschool. e poi c'è un kindergarten, TK, che potrebbe essere una primina. E poi inizia la scuola elementare, sono cinque anni di scuola elementare, tre anni di scuole medie, e poi ci sono il high school, che sarebbe secondaria. Quindi è molto, molto simile all'Italia. ci sono scuole pubbliche, ci sono scuole private, e poi ci sono le scuole private, che però hanno un aiuto dallo Stato. Le leggi cambiano molto da Stato a Stato, quindi è anche lì un calidoscopico di approcci a tutto, a tutti i tipi di servizi, eccetera. Però diciamo che a San Francisco concretamente come comune c'è molto investimento e molto aiuto, anche perché c'è una disparità di salari molto estrema, perché abbiamo chi è super, super ricco con tutti quelli che lavorano nella tecnologia, eccetera. E poi c'è anche moltissima povertà, infatti c'è un problema di tante persone senza casa, perché è effettivamente una città estremamente cara. Gli stipendi ovviamente anche sono più alti, però purtroppo anche nell'insegnamento e l'educazione non c'è tanta considerazione e gli stipendi sono bassi. Per fare un'idea così veloce, ovviamente c'è uno spettro molto grande, dipende da tante cose ovviamente, le lauree, l'esperienza, la scuola, eccetera. Però diciamo che lo stipendio lordo annuale potrebbe andare dai 40.000 ai 100.000 dollari all'anno, lordo, che sarebbe, non so, puoi passare da essere pagato 3.000 dollari al mese come 5.000. Però consideriamo che io personalmente il bilocale in affitto, che io sono in un quartiere non caro, pago 2.500 dollari. Ma va sempre comparato chiaramente con il costo. Quindi se per un bilocale io pago 2.500 dollari e poi lo stipendio è di 4.000 o 3.000, insomma, è proporzionato. Certo, certo. Quelle zone sono conosciute tantissimo, sono importanti in tutto il mondo, come tu hai già detto un pochino, per il lavoro che viene fatto in termini di tecnologia, tecnologia digitale. Tu, in quest'ultimo periodo, ti stai occupando più dell'estrascuola. Ecco, in una parte del mondo che è importantissima in termini di ricerca sul digitale, quali sono le proposte? Cosa viene fatto? A volte si racconta che c'è tanto digitale e poi dopo cercano di fare una vita senza, eccetera, eccetera. Cosa ci racconti a proposito? Io, quello che ho notato è che comunque il digitale è estremamente presente. Poi, è un luogo dove nascono molte cose, quindi, vedi anche tanta tecnologia che stanno provando, no? un esempio potrebbero essere le macchine queste qua senza, senza automatiche, senza guida, senza persona alla guida, no? Sì. Queste sono anni che girano, facendo delle prove, cioè adesso le usiamo come Uber anche, quindi, c'è certe cose sorprendenti che sono all'inizio e che poi magari scompaiono o invece si espandono nel resto del mondo. Sì, io adesso ho lavorato a scuola per tanti anni, ma adesso sono nell'extrascuola in un programma che si chiama, cioè questi programmi di scuola si chiama Enrichment Program, che sarebbe programmi di arricchimento, quindi offriamo nel mio specifico esperienze artistiche e anche di outdoor, perché abbiamo questi parchi che sono delle foreste e quindi noi offriamo questa cosa, abbiamo uno studio d'arte vicino a questo parco e offriamo o solo un'esperienza artistica o combinata con l'andare fuori in questo bosco. In generale ci sono tantissime, tantissime offerte a livello di estrascuola, perché le scuole diciamo che alle elementari finiscono intorno alle due, tra le due e le tre e quindi c'è tutto il pomeriggio in cui le persone specialmente che hanno tanti soldi e che si occupano delle tecnologie mandano i propri figli a fare una quantità diversa di esperienze incredibili, quindi c'hai da appunto l'artistico o l'outdoor, c'hai va molto di moda la robotica per esempio oppure hanno tutti i tipi di musica, di arti marziali, insomma l'offerta è molto lunga. L'offerta è molto e tu outdoor ma anche i thinkering se non sbaglio? Sì, negli Stati Uniti una forma creativa diciamo molto diffusa è il tinkering tinkering viene dalla parola tinker che sarebbe tipo sistemare qualcosa che è rotto oppure armeggiare con qualcosa per capire come funziona tante volte senza un prodotto finale solo che poi nel tempo si è declinato spesso con il prodotto il creare qualcosa che poi ti porti a casa e quindi c'è anche lì un po' di lotta e lì per non avere sempre la cosa creata e l'individuo che crea una sola cosa però diciamo se l'enfasi uno lo mette nella come funziona questa cosa a livello meccanico a livello scientifico a livello creativo è molto divertente e quindi uno mette insieme diverse cose e crea o scopre un esempio che materiali trovi che c'è smontare che cosa arrivi con un ventilatore arrivi con un computer immagino che in alcune parti lo fanno sicuramente sicuramente in alcune parti lo fanno dove lavoro io in realtà c'è più magari c'è i motori o c'è i circuiti o c'è i non lo so usiamo in realtà usiamo anche molti materiali aperti loose parts che poi uno mette insieme e cerca di costruire qualcosa oppure un marble run con le biglie per esempio un percorso per le biglie che fa diversi giri attraverso diversi meccanismi cose che hanno a vedere con il vento e fare da una parte una connessione uso questa parola giusto perché stiamo parlando di una dei luoghi più importanti al mondo sul digitale una connessione con i parchi con l'ambiente esterno il fatto del modo della natura e l'altra una connessione sul il progettare il pensare il ripensare uno smontare e un rimontare che appunto chiamiamo anche thinkering e non solo anche utilizzando materiali inaspettati inusuali per e con le generale con le idee sì e anche lì in questo caso possiamo dire dovrebbe essere un caleidoscopio di idee che vengono a partire con quello che c'è su diverse strade quindi diciamo ci porti questo questo piccolo scorcio che chiaramente il territorio è enorme che avviene appunto in zona california vuoi dirci una cosa come si direbbe visto Stiziano all'inizio diceva compiti quelle vacanze ovviamente in maniera eronica e una domanda a piacere che ciò dice un'altra piccolissima cosa un'altra piccolissima cosa magari riguardo ai boschi e alla natura che è la cosa che più mi ha rapita e che sono più innamorata in assoluto del territorio e la possibilità anche in città di andare in un in un bosco in cui piove il giorno prima cade un albero e noi siamo sopra l'albero dentro l'albero attorno all'albero attorcigliate all'albero le radici tutte le parti e ci passiamo le settimane in quell'albero stiamo parlando di altri tipo oh sì 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 no se cuoie sradicati magari sono sopra 4-5 metri di altezza e no è curioso perché abbiamo il contatto con la natura progettare idee e adesso arriva il rischio nel luoghi in cui domina appunto il digitale curiosa come situazione sì 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 assolutamente assolutamente mi sembra anche un buon equilibrio non so Tiziana che cosa ci dici eh che vi dico che un po' sentire di questi boschi dentro la città mi fa invidia però ecco anche il fatto e questo veramente Nora mi sembra interessantissimo il fatto di prendere smontare aggeggiare appunto ricomporre questi loose materia come le hai chiamate ora non mi ricordo quindi anche parti pezzi di meccanismi vari o oggetti eccetera mi sembra veramente interessantissimo io mi ricordo quando ero piccola c'era questo volume lo sai come funziona no? che chiaramente era la gioia e il dolore dei genitori perché la gioia perché te lo davano i bimbi proprio si tuffavano dentro poi il dolore perché poi trovavano appunto il televisore smontato io personalmente tolsi il tubo cattolico con il mio cugino eccetera perché a quel punto lo vedevi sul libro volevi farlo eccetera senza nessun tipo di guida quindi con disastri di vario tipo naturalmente però ecco in un mondo che è sempre più dematerializzato smaterializzato forse questo contatto molto forte con la natura ma anche con la natura degli oggetti quindi non solo il mondo naturale ma anche gli oggetti che usiamo mi sembra veramente molto importante anche perché il contatto si fa attraverso le mani gli occhi la manipolazione tutti i sensi quindi è una riattivazione non siamo solo macchine cognitive ma siamo anche un corpo che interagisce fisicamente col mondo esterno e in qualche maniera ci fa anche più sicuramente immediatamente più competenti perché ci permette di entrare nel cuore anche degli oggetti quindi queste cose misteriose che insomma ecco quindi mi sembra un'esperienza molto importante anche questa del tinkering e ovviamente tutta la parte dell'outdoor dello stare all'aperto di stare a contatto con la natura sì e visto l'avevi chiesto Tiziana hai suggerimenti ora se c'è compiti per scherzare insomma suggerimenti visto per noi l'ultima puntata quindi in qualche maniera si aprono guardiamo anche verso le vacanze oltre che verso il futuro hai qualche suggerimento da darci sì ho un libro che si chiama Wabi Sabi di Leonard Koren magari poi lo scrivo per artisti designer e filosofi per me ho un libro speciale che parla proprio dell'arte dell'impermanenza e la bellezza dell'imperfezione e molto per me è stata un'ispirazione grandissima e penso che si possa applicare in tutti gli ambiti della vita e con questo sguardo più creativo generativo è bello grazie se ce lo scrivi in chat poi lo diffondiamo sì benissimo grazie grazie infinite allora io Antonio che ne dici passerei la parola al nostro secondo ospite che fortunatamente ha potuto essere qui con noi tra l'altro anche lui ci chiama da un luogo inconsueto rispetto alle puntate precedenti mettiamola così perché ecco Daniele Giuliani che ci vedete lo sfondo non è proprio cioè è un teatro buonasera sì buonasera allora dove sei sì sono nella nostra sede qui a Firenze e quindi mi scuso anche perché la connessione non sarà un granché perché mi sono dovuto collegare col telefono poi alla fine perché col computer non mi non mi reggeva la la connessione ecco va bene ma non ti preoccupare questo noi guarda l'altra volta avevamo una persona che era all'interno bloccata all'interno dello sciopero dei trattori ecco per strada siamo abituati oramai a scenari di di vario tipo perché appunto si dice sempre il bello della diretta ma è bello di entrare anche nei luoghi proprio fisici di lavoro scuole o comunque nella vita delle persone quindi tranquillo allora io ho chiesto a Daniele in verità a tutta una scuola la scuola Gramsci in questo caso di parlarci di due esperienze in particolare per far vedere come le arti performative in questo caso il teatro siano veramente preziose per il nostro fare scuola ora in questo caso si tratta di interventi nelle scuole secondarie di primo grado le ex scuole medie insomma e appunto gli avevo chiesto proprio di farci un esempio uno che è un esempio proprio di come il teatro si può sposare bene con il rafforzamento delle competenze anche proprio strettamente cognitive ma curricolari in maniera tra l'altro che intrecci più discipline e era proprio una cosa tra l'altro che io ho visto in diretta ho visto nascere ho visto anche arrivare in fondo all'anno scolastico con un bel momento di festa di conclusione aperto ai genitori alla comunità quindi non solo all'interno della scuola ma in qualcosa che poi è stato condiviso ed era proprio un percorso sull'intelligenza delle piante se non sbaglio sì ci ricolleghiamo con i boss di cui parlavate prima sì e praticamente sì noi abbiamo fatto vari laboratori di affiancamento alla didattica dalla letteratura alla matematica e l'ultimo è stato proprio con le materie scientifiche sulla intelligenza delle piante quindi siamo partiti dagli studi del professor Mancuso Stefano Mancuso è un docente dell'università di Firenze che ha fatto delle scoperte vere e proprie su il mondo intelligente delle piante e noi come dire le abbiamo portato nelle scuole medie attraverso un laboratorio dove praticamente ci siamo erano soltanto dodici incontri quindi non avevamo tantissimo tempo però il nostro obiettivo era creare un video con con questo laboratorio quindi ci siamo concentrati su due aspetti uno aspetto era il fatto che le piante fossero intelligenti e quindi siamo abbiamo come dire pescato negli studi di Mancuso l'altro aspetto era sempre considerando gli studi di Mancuso che le piante si muovono quindi come dire c'era c'è come dire abbiamo immaginato che le piante avessero un'anima con questi ragazzi e e ognuno ha costruito delle maschere che poi sono state usate nel video finale proprio partendo da materiali di scarto della vegetazione che avevamo a disposizione e con quei materiali lì hanno costruito queste maschere che se dopo riesco vi metto anche una foto nella chat in modo tale che le possiate vedere e inoltre ci siamo concentrati quindi sul movimento e abbiamo cercato quel movimento lento che le piante hanno movimento intenzionale che le piante hanno e con il quale abbiamo strutturato tutta una serie di esercizi mutati dalle tecniche di formazione attoriale quindi dal teatro per formare i ragazzi a un uso del corpo lento in quel caso quindi anche di controllo su erano ragazzi delle medie quindi immaginate i flussi energetici sono molto alti molto forti in quel periodo della vita grazie a Dio e quindi come dire imparavano anche a controllarsi anche a gestirsi il progetto si chiamava antologia del verde proprio perché noi abbiamo preso anche poesie che siamo riusciti a trovare sulla letteratura che parlassero delle piante e quindi abbiamo fatto anche delle registrazioni audio che poi sono confluite nel video inoltre ci siamo soffermati anche a riflettere sui contenuti che portavano queste poesie altra operazione drammaturgica che abbiamo fatto con le ragazze fu quella di trasformare degli articoli divulgativi di Mancuso appunto del professor Mancuso in delle poesie che loro stessi componevano e che loro stessi poi andavano a riportare nel video è stato un progetto molto interessante ringrazio appunto le persone che hanno collaborato come Tiziana come gli insegnanti che per l'appunto stasera per problemi tecnici non sono riusciti a intervenire ma che mandano un saluto ecco sì guarda Daniele tra l'altro se c'è modo davvero di vedere almeno qualcuna delle maschere potrebbe rendere visivamente anche l'impatto di questo progetto perché veramente sono venuti fuori delle creazioni molto belle la cosa interessante era proprio questo intreccio delle materie con materie scientifiche quindi anche educazione tecnica perché c'è la mani spolazione di materiale educazione artistica ma naturalmente scienze e così via la conoscenza proprio anche del territorio stesso l'esplorazione di quello che era attorno alla scuola con appunto l'espressività ecco questo è stato molto molto importante questo per dire che appunto un po' le arti performative ma in generale tutta l'espressività rischia di essere scusa dai programmi scolastici dal curriculum e invece possono essere parte integrante e davvero portare un forte arricchimento un forte contributo anche di tipo affettivo emotivo non solo estetico e infatti l'altra cosa che io ti volevo chiedere e su cui ci eravamo confrontati è proprio questo percorso di alfabetizzazione alle emozioni che tu più volte fai ma insomma anche in questa scuola hai fatto sempre attraverso il teatro ecco di cosa si è trattato come si chiamava il progetto insomma il percorso sì allora era un progetto sempre in una scuola media sempre la Gramsci di Firenze e era un progetto interclasse nel senso che c'erano vari ragazzi provenienti da varie classi ed era il progetto se non mi sbaglio si chiamava Esplorando Galassie proprio nella misura in cui ogni persona ogni singolo è un universo insomma da esplorare quindi come dire noi volevamo portare la riflessione su quello e sulle emozioni noi pratichiamo un teatro che come dire cerchiamo di dare la possibilità al pubblico e a noi stessi di emozionarci cerchiamo di quindi come dire è una materia quella delle emozioni che frequentiamo frequentiamo sia nei laboratori con gli attori lo frequentiamo noi come attori anche proprio perché in questo mondo oggi così iper tecnologico l'emozione è un elemento che ci ancora ci riporta al corpo è un elemento che ancora oggi è destabilizzante rispetto a le tematiche che poi si vogliano affrontare e questo era un laboratorio appunto sulle sette emozioni abbiamo principalmente lavorato sulle sette emozioni principali e siamo partiti anche lì da un aspetto teorico quindi anche di riflessione di scambio con gli studenti chiedendoci proprio cercando di rispondere a delle domande cioè la domanda era queste perché ci emozioniamo quale funzione può avere nella vita di tutti i giorni ed erano cose su cui erano molto interessati perché ognuno di loro aveva delle problematiche legate alle emozioni nel senso a volte mi arrabbio troppo ci dicevano allora sbatacchio qualcosa quindi come dire questa riflessione serviva proprio per ancorarlo alla realtà e quindi far trovare a ognuno un significato un senso del perché stavamo facendo quel tipo di lavoro chiaramente spiegando anche che per noi attori le emozioni sono una materia primaria con la quale dobbiamo entrarci in contatto almeno per il tipo di teatro che mi interessa a me e che ci interessa a noi come sfumature in atto quindi siamo partiti ti faccio perché il tempo poi è tiranno l'emozione da cui siete partiti in sintesi è quella a cui siete arrivati perché poi magari per approfondimenti diamo proprio suggerimenti contatti eccetera tra l'altro segnalo che nella chat Francesca Dare ha segnalato un percorso che è di Francesco Bianchi che è una delle persone di cui abbiamo esplorato proprio la pedagogia del clown in puntate precedenti per cui ecco prendete anche magari se guardate anche le puntate precedenti di questi incontri vi rendete conto come la gamma di idee che si possono sviluppare attraverso un approccio più ludico teatrale in questo caso sia veramente incredibile anche molto profonda dai da che emozioni siete partiti e quale siete arrivati siamo partiti da se si può fare diciamo da quelle che vengono considerate negative anche se poi in realtà non lo sono nel senso che ogni emozione ha una propria funzione e fino ad arrivare a l'emozione più grande e più difficile da provare che è l'amore l'amore è inteso appunto in termini universali cioè si può provare amore per tutto o per niente e quindi siamo partiti da una sensibilizzazione proprio del corpo quindi mettere i ragazzi un attimino e prima di tutto a sentire questo corpo perché le emozioni appunto non ce lo dimentiamo mai ma hanno a che fare con il corpo non con il pensiero soltanto quindi prima di tutto una sensibilizzazione più una percezione e un'individuazione delle sette emozioni nei vari laboratori ogni ragazzo gli veniva chiesto dove senti la rabbia in quale parte del corpo riesci a sentire la rabbia in quale nelle mani nelle braccia nella bocca perché gli abbiamo spiegato che ci sono stati fatti delle ricerche dove sono state individuate proprio delle zone del corpo dove determinate emozioni si sentono di più o di meno quindi abbiamo fatto vedere anche delle diapositive su quello fino ad arrivare poi all'espressione quindi a delle tecniche di improvvisazione teatrale a delle tecniche attoriali per esprimerle queste emozioni attraverso il corpo e la voce e ecco diciamo quindi la fattualizzazione anche non solo individuarle in sé ma sapendo le esprime anche riconoscerle poi negli altri immagino quindi anche i canali attraverso cui si comunicano le emozioni certo sì 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 principalmente attraverso il corpo e la voce non la parola proprio intesa come parola anche dopo anche la prosa però prima di tutto l'espressività del corpo e della e della voce ah una cosa che abbiamo fatto è stata molto interessante che abbiamo fatto proprio una sorta di mappa no dove ognuno di loro secondo loro faceva attraverso un disegno la costruzione del proprio corpo emotivo e quindi come dire è stato molto interessante per quello perché credo che gli abbiamo dato degli strumenti che possono essere serviti a riconoscere l'emozione quando arriva e quindi di conseguenza iniziare provare a gestirla e mi ha stupito molto l'interesse l'interesse che uno pensa possa riguardare soltanto i grandi invece erano molto interessati a certo ma io invece guarda questo non mi stupisce affatto perché è un momento anzi di grandi emozioni di turbamenti anche rivoluzioni corporee eccetera per cui siamo a volte persino almeno io sempre penso anche a me stessa in quella fascia d'età ero proprio in preda continuamente a emozioni tra l'altro da un momento all'altro io mi sembravo come impazzita ecco quindi penso sia davvero anche strategico farlo in un certo momento della della vita e proprio mi sembra uno strumento fondamentale Antonio che ne pensi che ne dici di questa cosa che ti suscita che ti fa venire in me chissà se queste narrazioni hanno fatto tremare come una foglia chi ci sta ascoltando e quindi colleggo la dimensione della natura con con le emozioni che in effetti è è così noi a volte diciamo vegetale come qualcosa che è fermo che non ci dice niente invece ci state dicendo che in realtà ci offre tantissimo anche da questo punto di vista cioè fare mettere in scena il movimento delle piante lo dice sarà qualcosa di estremamente noioso invece no ci avete raccontato che non è proprio così anzi per niente e che è un mondo emotivo da esplorare anche riflettendosi a partire dal dal mondo dal mondo vegetale e ancora di più facendo perno su ricerche scientifiche e non scivolare le retoriche che intorno alle emozioni può essere anche molto facile da andare a toccare e c'è una parola non so se l'avete detta ma che è biofilia cioè che è biofilia cioè è qualcosa che ci affilia emotivamente verso tutto ciò che vivete in particolare dal modo appunto anche il mondo delle piante e degli animali quindi è anche qualcosa che ci fa ascoltare noi all'interno di un contesto che è quello sicuramente dei viventi delle relazioni che sono fondamentali da coltivare danno opportunità e sono leve fondamentali anche per studiare e anche la possibilità di sentirsi in contatto con con gli altri e tutto il mondo circostante che è un modo anche di fare direi educazione ecologica dove noi ci sentiamo natura e non ci siamo noi e tutto il gesto così come avviene verso gli animali verso le piante e questo avviene anche grazie ad un ascolto delle nostre emozioni negli altri che poi ci permettono di ritornare sulle fronte e rileggerle continuamente in evoluzione assolutamente chiedo a Daniele se ti lascia anche lui dei suggerimenti di visione lettura qualsiasi cosa ti può venire in mente a partire proprio da quello che ti è piaciuto a te a partire da quello che ha emozionato te eccetera ecco quindi non prendetela come non prendeteli come suggerimenti ma di bibliografie scientifiche ma appunto diciamo bibliografie emozionali ecco mettiamola così quelle che hanno condotto avanti la nostra passione per questo per questo per questo lavoro per questo per questi approfondimenti allora sì assolutamente io diciamo che un po' i miei riferimenti teorici sono molto hanno a che fare con i classici cioè quindi per esempio per quanto riguarda le emozioni sicuramente Alexander Lowen e tutti gli studi che ha fatto sulla bioenergetica sono un riferimento importante e lo trovo molto pertinente insomma ma anche Carl Gustav Jung perché ha fatto tutto un lavoro di ricerca sull'immaginazione collegandola a appunto cioè ogni immagine come se fosse un contenitore di energie e quindi di emozioni anche la sua diciamo impostazione terapeutica è molto incentrata su questo quindi l'uomo e i suoi simboli che è un libro divulgativo in cui parla di questo un altro libro divulgativo molto interessante è la sua autobiografia che si chiama ricordi sogni e riflessioni che è una una autobiografia un po' particolare perché è un'autobiografia dell'interno quindi lui si racconta dal proprio vissuto interiore immaginativo e non da un punto di vista puramente biografico ho fatto questo piuttosto che altro molto molto interessante meno divulgativo ma sempre molto interessante l'io e l'inconscio dove appunto poi chiaramente io pre pesco e riadatto certo 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 senti se ce li puoi scrivere in chat stiamo cercando appunto la chat ora ti do istruzioni io Antonio andiamo avanti con l'ultimo perché bisogna chiudere in belletto siamo ci colleghiamo con cattolica con l'istituto comprensivo di cattolica e abbiamo Ilaria Gobbi insegnante della scuola primaria e a lei piace definirsi maestra in cammino ecco che allora questo caledoscopio appena la trucche si sposta e lui è entrato sei a scuola da questa mattina alle otto e mezza non vi sono mossa immaginiamo perché conosciamo la vita e l'insegna però ho preferito rimanere qua perché nella sua classe nella mia classe nella nostra aula allora dici un po' qual è un po' che si si illumina bene cosa ci come ce la può presentare questa scuola con attenzione Nore Daniele e quindi diciamo che mi sono ritrovata pienamente in questa didattica che io e la mia collega stiamo portando avanti già da due tre anni a questa parte che personalmente mi piace definire è una una miscela profumata ma che che perché è miscela perché è formata da tante particelle diverse che stimolano che provocano curiosità creatività apprendimento e profumata perché ci richiama all'esperienza del profumo ed è questo che la scuola mette in atto tutti i giorni soprattutto fuori e dentro questo edificio che in realtà è un insieme tra dentro e fuori perché noi appunto tra le tante particelle c'è appunto lo stare all'aperto e c'è il gioco c'è la biofilia e c'è quella che amiamo definire una didattica dell'imprevisto e questa è la particella della miscela è una particella della miscela che non è una miscela esplosiva che diciamo è esplosiva perché perché la didattica dell'imprevisto a nostro avviso è tutt'altro che imprevista ma si fonda su basi solide che partono dal sapere innanzitutto quali sono i traguardi di competenza e però ci permette insieme ai nostri alunni di divertirci di giocare di partire dalle loro curiosità dai loro stimoli e io in questo momento abbiamo una classe seconda e da quando erano in prima li abbiamo un po' accompagnati nelle scoperte quindi loro sono abituati tutti i fine settimana quasi ma adesso capita anche regolarmente ogni giorno escono di casa e si trovano qualcosa che loro amano chiamare reperto è diventato un po' il nostro linguaggio soprattutto un elemento naturale lo portano a scuola e noi nel cerchio la mattina siamo aperti all'imprevisto quell'oggetto quel reperto che cosa dove ci porterà non lo sappiamo io non lo so la mattina cosa arriva io e Laura la mia collega ovviamente abbiamo una nostra programmazione che puntualmente decliniamo in altro diventa altro e per esempio arrivano te lo faccio vedere perché sei in classe è arrivato questo bellissimo sassobucato e quindi indaghiamo ma da dove è arrivato in quale parte d'Italia dove si trova su quali coste e perché è bucato cosa gli è successo qualcuno l'ha lanciato e si è bucato e le ipotesi sono infinite i bambini poi sono meravigliosi nel creare storie e farsi tante domande sulle quali alle quali noi spesso volentieri rispondiamo che non lo sappiamo e quindi la nostra ricerca continua e poi ci inventiamo le storie però lo stesso giorno arrivano anche le penne eccoci e allora a un certo punto ci ritroviamo con un portapenne esatto e diventa il nostro portapenne e da lì e da lì possiamo farci di tutto innanzitutto c'è partono appunto le ipotesi le domande e c'è un'indagine che prima c'è un confronto quindi lavoriamo molto nel gruppo nel piccolo gruppo di solito i bambini fanno delle ipotesi per esempio da dove nasce un sasso siamo in una classe seconda quindi all'inizio anche dell'anno abbiamo raccolto tantissimi sassi perché poi spesso siamo l'aperto fuori nel territorio quindi c'è il mare e quindi c'è il mare c'è il parco eccetera e dall'indagine quindi dalle informazioni che loro già possiedono dalle osservazioni che fanno dal toccare da usare i loro strumenti magici che sono i cinque sensi arriviamo poi anche ad utilizzare gli albi in chiave dicotomica molto spesso albi illustrati abbiamo quasi abbandonato il libro ministeriale fariamo usare appunto albi illustrati e quando abbiamo storie da leggere o cose da indagare oppure anche enciclopedie poi c'è google c'è internet c'è la lim e da un approccio più scientifico poi parte quello che ci fa entrare nelle storie alle narrazioni agli indovinelli matematici per esempio qualche giorno fa grazie all'aiuto dei genitori lavoriamo collaboriamo molto con le famiglie che in tutto questo ci seguono nelle nostre bizzarrie e insieme a loro i bambini a casa hanno preparato dei colori naturali dopo aver dato fornito delle ricette ma il colore naturale dopo un paio di settimane fa la muffa e quindi siamo entrati nel magico mondo delle muffe e questo è un po' quello che avviene nella realtà che vi portano degli spunti dove esatto appunto a volte si tratta di dire aspettate un attimo ci studia un pochino mi informo invito una persona ragione eccetera e su questo provare a costruire itinerari e didattici e comunque non perdono la bussola dei traguardi esatto proprio così esattamente quindi ricercate l'imprevisto poi e poi c'è la collaborazione ve la cercate anche uscendo la cerchiamo uscendo nel territorio di solito abbiamo quando usciamo fuori abbiamo sempre delle missioni da compiere e queste missioni aiutano ad attivare uno sguardo più curato più approfondito e quella ecco ritorno alla parola biofilia a stimolare e a ritrovare l'emozione di guardare un sasso una conchiglia una piuma e una foglia anche con un altro occhio con un altro sguardo quindi usciamo fuori con la missione di andare a cercare le righe che ci sono all'aperto dove le trovo le righe e quindi dal grande poi arriviamo al piccolo e e i bambini portano a casa qui queste emozioni se le restituiscono ogni giorno perché poi da loro arrivano le proposte e arrivano a scuola con con l'entusiasmo negli occhi con la gioia e questo viene anche fatto viene condiviso anche con le famiglie tant'è che i nostri incontri con le famiglie non sono delle riunioni ma spesso come è capitato anche un paio di settimane fa prima di Pasqua ci siamo ritrovati in una piazza a giocare bambini e famiglie tutti insieme al gioco del baratto e perché facciamo questo perché è indispensabile che le famiglie capiscano quello che stiamo facendo a scuola e quando giochiamo provano in prima persona quello che provano i loro figli mentre sono a scuola a giocare si attivano tutte le dinamiche di una relazione e e vedono cosa succede qual è anche l'importanza di un gioco e e poi noi li leggiamo i anche a seguito di questi incontri che sono inizialmente giocosi anche quelle che sono i traguardi di una competenza di questo tipo qui ci sono le escursioni della domenica le passeggiate i picnic di fine anno scolastico e i balli popolari quindi insomma ve la cercate in tutti i sessi insomma immagino anche i bambini arrivano con le fiume io dico ma dove vanno quindi mi piace che loro se la vanno un po' a cercare adesso non si sposta la videocamera ma noi abbiamo proprio un museo dei reperti naturali in classe e quindi arrivano i bastoncini che dico maestra guarda ho trovato una ballerina nascono le metafore e parliamo e approfondiamo il linguaggio diventa anche un linguaggio più tecnico più scientifico riportano il borsellino della sirena sono andato sulla spiaggia maestra ho trovato questo poi fanno il gioco dell'indovina chi quindi indovinate dove sono stato il linguaggio quando sono col sì o con il no e poi viene fuori ma che cos'è il borsellino della sirena ma come le sirene hanno un borsellino cosa metteranno dentro e dopo andiamo a scoprire che cos'è quel borsellino certo ultima cosa hai detto le vacanze di Pasqua noi e dall'inizio già pensiamo alle vacanze chissà se qualcuno già ha organizzato qualcosa comunque tra queste potrebbe anche essere fare delle uscite di visiting esatto che abbiamo invitato durante l'anno compreso l'ultima quest'ultima di l'aria cattolica ecco pensando a fine anno diciamo una festa di fine anno avete già qualche in questo momento abbiamo molti una che è sbocciata dieci minuti fa Antonio che la vorrei ne rivelo un pezzettino perché poi se c'è qualche genitore in ascolto perché ci piacciono molto le sorprese quindi rimaniamo sempre nella sospensa però siccome siamo nel gioco siamo molto nella buca ultimamente perché qui nel nostro tardino c'è una buca incredibile che ci sta offrendo tante opportunità e ci piacerebbe fare una notturna quindi probabilmente quest'anno usciremo a fare un percorso trekking un sentiero che c'è il parco San Bartolo qui dalle nostre parti che è una falesia sul mare molto bella quindi probabilmente faremo questo trekking con le famiglie giochi tra per esempio potrebbe essere anche quello di scavare una buca e fare dei giochi di lancio e bambini e famiglie insieme o come potrebbe essere anche l'idea di fare una cazza al tesoro è tutto work in progress e poi è il periodo delle lucciole perciò gireremo spegneremo poi le lucine ci saranno delle storie da raccontare letture intorno al fuoco questo questo probabilmente potrebbe essere il nostro saluto di fine anno con le famiglie bene un saluto in notturna esatto con le luci ovviamente con le luci poi le spegniamo e vediamo chi salta fuori bellissimo e non è fare scuola alla cieca dunque dacci un suggerimento per per così diciamo che può essere un libro ma può essere anche un film può essere anche altro un film molto bello un Goku film che è uscito da quest'anno nel cinema è La Quercia e siamo già andati noi a vederlo con i nostri alunni ma è da rivedere anche più di una volta perché comunque entra cioè il protagonista oltre alla quercia oltre all'albero sono le relazioni e e quindi lo consiglio vivamente per i bambini per i genitori un albulo strato da accompagnamento alla quercia mi piace in maniera particolare è questo caduto perché ci fa vedere il punto di vista di un albero caduto morto cosa succede chi ci abita ci sono delle pasticcerie segrete che nessuno immagina e amo in maniera particolare Mario Lodi e quindi per me quasi più di CP forse adoro bandiera quindi ritornerei su una narrativa classica perché è poesia e come compito delle vacanze darei anche quello di magari andare a caccia con delle missioni per una volta ogni due settimane all'aperto e guardare i lampioni fare le foto di lampioni a vedere che forma hanno oppure le ragnatele ecco attivare un po' quello sguardo che che va riallenato soprattutto nei bambini che ancora ce l'hanno prezioso e fa bene anche agli adulti e alle piccole cose per entrare dentro e per riagganciarci a quel discorso di biofilia di di emozioni bene inizia abbiamo stiamo un po' sforando stiamo un po' sforando siti ora vi salutiamo però vedete ci siamo presa più calma erano esperienze troppo troppo belle troppo interessanti troppo troppo ricche e che dire vedete poi poi tutto si tiene alla fine vedete che i temi si si rincorrono si richiamano a vicenda si intrecciano è proprio un calidoscopio di di noi chiaramente ora siamo in chiusura quindi ringraziamo i nostri ospiti di oggi ma anche tutti quelli degli incontri precedenti e ricordiamo a chi ci sta seguendo che comunque questi tutto questo è stato registrato e lo potete trovare ritrovare compresi poi anche gli spunti di idee di lettura sul canale youtube di di scuola oltre dal mio punto di vista io mi sento da profondo di ringraziare tutte le persone che hanno partecipato sia quelle che ci hanno portato la loro esperienza appunto dialogando con noi in diretta che anche le persone che hanno partecipato ascoltandoci perché sempre hanno interagito molto e continuano a scriverci anche nel tempo eh perché le suggestioni che arrivano sono tante e e soprattutto ehm cioè il rischio è sempre da adulti di perdere quella quella cosa che diceva benissimo prima Ilaria no quella freschezza di sguardo quello stupore ecco quindi diciamo che per me questa trasmissione è stato un modo per riallenarmi continuamente a stupirmi ma guarda che cosa ganza che si può fare a scuola partendo da un sasso da una piuma dalla pioggia vi ricordate le passeggiate sotto la pioggia da una corteccia e le piante si muovono cosa succede una foglia quando cade e così via quindi ecco che bellezza che fortuna che abbiamo di poter riscoprire insieme ai bambini ai bambini ai ragazzi e ai ragazzi tutto questo perché da adulti se no ci addormentiamo un po' ci sediamo ci perdiamo questa grande risorsa che è lo stupore ecco lo stupore per qualcosa che poi è è meraviglioso in tutte le sue contraddizioni ma è data parte questo è il mondo che abbiamo quindi questo è il mio saluto per voi Antonio grazie la meraviglia è la scintilla è una delle scintille della conoscenza e quindi bene aver condiviso momenti di stupore aver provato a farlo ascoltando la vostra voce le vostre emozioni le vostre esperienze le vostre relazioni con i genitori con le colleghe con i bambini noi nel nostro piccolo abbiamo provato a fare con voi online ciò che ci siamo detti di fare con i bambini e quindi ci abbiamo provato e vi auguro a questo punto tanto stupore e meraviglia da qui e le prossime volte che ci incontreremo grazie a voi ovviamente a nome di Scuola Oltre grazie Tiziana grazie Antonio per questa rubrica che è veramente diventata fonte di tante idee di tante esperienze nata forse un po' per gioco mi viene dire conoscendovi e guardate dove ci ha portato veramente a creare una connessione tra le varie esperienze che come ha detto anche sia Antonio che Tiziana un po' si rincorrono un po' torna è il bello di ritrovare anche una connessione tra tutte le varie persone e realtà che si conoscono leggo questo commento su Facebook che mi ha colpito da parte di Ingrid che ringrazio ovviamente come gli altri che ci hanno seguito e viva la scuola aperta alla natura alla condivisione all'accompagnamento sensibile verso le curiosità e la creatività naturale dei bambini credo che possa essere una giusta conclusione per questo percorso insieme vi ringrazio ancora e vi aspetto ai prossimi appuntamenti grazie arrivederci grazie buona serata grazie mille grazie 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 a voi grazie a tutti